Elaborati eccellenti quelli degli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Val di Dentro, Bormio, Val di Sotto e Val Furva, tutti premiati alla prima edizione del concorso dedicato alla figura del capitano Arnaldo Berni, il più giovane dei capitani d'Italia durante la Grande Guerra. Il soldato del V Reggimento Alpini, Battaglione Hortler, che nella solitudine delle vette alpine parlava col vento e non temeva la notte, giace ora sepolto tra i ghiacci del San Matteo in Alta Val Furva, per questo chiamato Sacrario. La sua ultima lettera, piena di timori e presaggi, scritta alla famiglia residente a Mantova, porta alla data del 3 settembre 1918. A distanza di 101 anni dalla morte, il nipote Augusto Berni, assieme al geologo Giovanni Peretti, ha promosso la competizione per rinforzare nei giovani della valle il ricordo degli avvenimenti di cento anni fa, dei sacrifici e del coraggio di quei loro antenati ideali. E così alcuni libri storici della casa editrice Alpini a Di Bormio sono stati consegnati in omaggio agli alunni che hanno saputo fare memoria del valore militare, ma soprattutto umano di Arnaldo Aldo Berni, consentendogli di vivere nel ricordo eterno. Dalle 700 lettere e dai due diari conservati da Margherita, sorella del capitano, traspare un animo dolce e gentile e poetico, rispettoso del nemico asborgico esempio di forza, coraggio, determinazione di un ragazzo che sognava di ritornare a casa dalla fidanzata Maria. Quello che mi riprometteva soprattutto era di aiutare i ragazzi giovani a ricordarsi di quello che è successo cent'anni fa, ricordarsi della guerra, ricordarsi di tanti ragazzi della loro età o giovani quasi come loro che hanno perso la vita su queste montagne. Tra i sette lavori premiati spiccano la valigia del capitano con lettere scritte a mano dagli studenti anticate, la riproduzione della zona di guerra in cartongesso, il gioco simile al Monopoli, opere fantastiche e profonde, lavori eccellenti di ragazzi capaci di sperimentare un modo diverso di apprendere la storia. Volevo esprimere la mia profonda soddisfazione per il inaspettato esito di questa iniziativa. Quando abbiamo iniziato a pensare con la famiglia Berni a questa iniziativa sicuramente non ci aspettavamo una risposta di questo genere, soprattutto perché gli argomenti storici alcune volte non sono del tutto graditi ai nostri ragazzi. Il corpo del capitano Berni, assieme ad una trentina tra alpini e soldati imperiali, è ancora sepolto tra i ghiacci del San Matteo a 3760 metri. È lì che il capitano desiderava fosse la sua eterna dimora. In questo contesto del concorso che è stato fatto con la famiglia Berni assume veramente un'importanza fondamentale il fatto che i nostri ragazzi abbiano conosciuto questa storia e quasi siano immedesimati. Come Comune di Vallisotto abbiamo aderito a questa bellissima iniziativa delle scuole del nostro comprensorio Alta Valtellina e i lavori elaborati dei ragazzi verranno esposti poi quest'estate nella struttura del Forte Militare Venini di Oga.